Tensione di campionamento dati Impostazione per le letture Cambio, tensione corrente Sinistra Cambio, tensione corrente Meno 18, 14 18, 22 Ok, ok Il primo, 1, 4, 3 0, 6, 0, 1 Bisogna il rumore di fondo Ho già appena misurato il rumore di fondo I dati vengono registrati sul sistema I dati vengono